allora ciao a tutti buon natale buon natale buon natale buon natale e vogliamo fare questo video estemporaneo per augurare buon natale a tutti gli iscritti di alessio del fra musica e blog e su noi c'è anche il fabbri ecco lo so io eh quindi buon natale a tutti sperando che sia bellissima anche per voi come per noi ecco vai auguri a tutti buon natale ciao ciao e sono già di fuori